Ciao amici Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un nuovo prodotto, l'ho usato per qualche giorno prima di parlarvene, è il nuovo Samsung Galaxy S10 Plus. Dopo la presentazione di un paio di giorni fa a Londra, ho voluto provare per un po' prima di parlarvene il nuovo Galaxy S10 Plus. Volevo una vera recensione, non un semplice racconto di un telefono partendo dalla sua scheda tecnica. Non sono ancora al 100% della conoscenza dopo solo i due giorni, ma sono pronto a darvi molte informazioni che lo riguardano. Partiamo immediatamente dalle dimensioni, 7,8 mm di spessore è la caratteristica fondamentale, poi 157,6 mm, 74,1 mm, ma mi concentrerei proprio sullo spessore di questo telefono, che dà immediatamente una sensazione di un telefono ultracompatto, peraltro con un senso di leggerezza rispetto a molti altri prodotti in circolazione notevole. 175 grammi per la versione normale, 198 per la versione ceramica. Quello che c'è alle spalle invece è un Gorilla Glass 5 con un frame in alluminio. Nella parte inferiore l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, il connettore USB Type-C e poi uno dei due altoparlanti. Ci tengo a sottolineare, farvi vedere che l'altro invece è nella parte superiore, vedete, in questo punto. Non c'è un sensore delle impronte digitali perché è stato nascosto sotto il display. È il sensore ultrasonico realizzato da Qualcomm, vedete qual è il risultato. Voi non avete un punto in cui, preciso, dove mettere il dito, premete, anche con il dito sporco, anche con la mano bagnata riuscite a sbloccare il vostro telefono. 6,4 pollici, superamole, vuol dire quindi colori neri molto profondi, una leggibilità anche alla luce del sole che è notevole, ma c'è un lato molto positivo perché questo display è tarato per ridurre di oltre il 40% l'emissione di luce blu, anche quando state guardando i colori normali ed è per questa ragione che il telefono dunque ha un effetto meno invasivo, meno importante sugli occhi. Una delle cose fondamentali di questo telefono è il buchetto, la doppia fotocamera frontale, poi ne parliamo però di fotocamera, però intanto nell'aspetto del telefono non c'è il notch e non c'è neanche un sistema di pop-up. Il cassettino che vi permette di mettere due SIM oppure una SIM e una micro SD è nella parte superiore, un lato con il solo pulsante di accensione, l'altro invece con il controllo del volume, lo sapete che per noi si chiama volume rocker e anche il Bixby button, che è il bottone che potete utilizzare per Bixby. Parte posteriore invece con tre sensori della fotocamera, sapete che c'è un sensore principale, poi sensore ultra wide e anche il telefoto, quindi il sensore per lo zoom. Ma torniamo a parlarne dopo, vi devo dire che non cambia ovviamente tantissimo il suo aspetto rispetto al Galaxy S9, ma da impugnare, è veramente molto bello. Cosa c'è dentro questo telefonino? Come sempre due versioni, una per i paesi in cui viene utilizzato il Qualcomm Snapdragon 855 e gli altri invece con il processore 9820. Un telefono veloce in tutte le attività che svolge, con un'interfaccia che è uguale a quella che è stata introdotta sul nuovo Note, sul recente Note 9, grazie all'aggiornamento ad Android 9. C'è Bixby in italiano. Io continuo a pensare che Bixby sia tra i tanti assistenti disponibili quello che è forse meno immediato usare, ma perché non c'è un'esperienza di Bixby al di fuori del mondo di Samsung. L'interfaccia è fatta molto bene, io trovo che finalmente riesca anche Samsung a creare un ecosistema con gli altri dispositivi che potete utilizzare dentro casa e soprattutto con i tablet e con anche le Smart TV, soprattutto quelle di ultima generazione. Un telefono veloce, certo non è tanto il navigare che ve lo mostrerà. Ho fatto un sacco di video, un sacco di foto, ho provato anche l'editing del video direttamente su questo telefono e devo dire che funziona assolutamente molto bene. Se diamo un occhio al menu, non abbiamo tantissime novità. Abbiamo la gestione delle routine di Bixby e anche la gestione dei movimenti. I movimenti sono i classici, sollevare per attivare il telefono, lo standby intelligente, quindi quando voi guardate il telefono non si spegne il display, si tocca due volte il display per riaccenderlo, avete la possibilità di usare la modalità con una mano. Insomma, davvero tantissime modalità che ormai conosciamo molto bene nell'utilizzo del telefono. C'è anche il doppio account, questa è una cosa a cui siamo abituati, e poi l'ottimizzatore video. Però ecco, scorrendo il menu di questo telefono, la cosa che colpisce forse di più è il fatto che è stato adottato la modalità del benessere digitale, cioè questo è un aspetto proprio di Android 9 che fino adesso abbiamo visto solo sui dispositivi di Google. E poi l'assistenza del dispositivo, come sempre, il management della memoria di archiviazione e della batteria, la possibilità di gestire i tipi di blocco che si vogliono utilizzare per lo schermo, ovvero il pin, l'impronte digitale, lo sblocco con il volto. C'è l'always on display che potete gestire a vostro piacimento. Insomma, diciamo che non ci sono grandissime novità nell'interfaccia e nell'utilizzo di tutti i giorni di questo Samsung. Probabilmente le novità principali vengono dalla fotocamera. Diamo un'occhio. Parto dal retro, tre fotocamere, due da 12 megapixel e una da 16 megapixel. Da 12 megapixel sono la fotocamera, tra virgolette, normale, con un sensore da 26 mm, ce n'è uno poi da 52 mm invece che serve per lo zoom 2x, e ancora il sensore invece da 12 mm che è quello, l'ultra wide, in questo caso un sensore da 16 megapixel. Allora, 12 megapixel per il sensore principale, 12 megapixel per il sensore zoom, 16 megapixel per il grandangolo, apertura variabile per il sensore principale da 1,5 a 2,4, un'apertura di 2,4 per il telefoto e invece un'apertura 2,2 per il sensore da 16 megapixel. Sulla parte frontale del telefono il Galaxy S10 Plus si differenzia e distingue dal Galaxy S10 proprio perché ha due fotocamere, una da 10 con apertura 1,9 e una da 8 megapixel che funge da sensore di profondità con apertura 2,2. Che cosa caratterizza questa fotocamera? Diverse cose, ad esempio vi faccio vedere un dettaglio, il tasto Instagram, voi in pratica cliccando su qualunque foto su questo bottone potete pubblicare immediatamente su Instagram, super cool e soprattutto molto comodo. Come si utilizzano i tra diversi sensori? Con questo menu che differenzia la dimensione delle foto che potete scattare. Il grandangolo fa delle buone fotografie soprattutto perché non altera le linee della fotografia, riesce a correggere la distorsione che è tipica del grandangolo in modo, secondo me, sufficientemente efficace. Nella parte inferiore gestite le diverse modalità di scatto della fotografia, voglio farvi notare che il fuoco live ha questa volta delle ulteriori modalità di scatto, ce n'è una, secondo me, molto carina, che tiene il colore solo in ciò che è a fuoco, quello che viene sfocato viene trasformato in bianco e nero. Avete la possibilità di modificare poi la dimensione delle vostre fotografie, sia per la fotocamera posteriore che ovviamente anche per quella anteriore. Per quella anteriore, vedete, le possibilità di utilizzo si riducono un po' da fuoco live a fotografia fino a video. I video, questo è un aspetto importante perché c'è una stabilizzazione più efficace per la ripresa dei video e questo è ovviamente uno dei grandi miglioramenti che ha portato questa fotocamera a essere valutata la migliore in assoluto sul mercato insieme a Mate 20 Pro. Però rispetto a Mate 20 Pro il vantaggio principale viene dalla fotocamera dei selfie che riesce addirittura ad avere 20 punti in più rispetto a quella di Mate 20 Pro. Insomma, se cercate un buon sensore fotografico, diciamo che questa è la soluzione per voi. Per quanto riguarda la velocità di scatto, vi faccio vedere una foto qualunque, una foto normale. Ricordate sempre che quando appare qui qualcosa vuol dire che la foto è scattata e migliorata. Dal momento in cui io inquadro e scatto, vedete, scatto immediato e memorizzazione. Praticamente istantanea qualità della foto, devo dire, notevole in tutti i suoi dettagli. Per capire cosa voglia dire passare dal grand'angolo alla... Scusate, sto facendo un sacco di casino, vedete, in questo momento il telefono non mi sta rispondendo adeguatamente, ma solo perché sto toccando anche lateralmente. Dicevo, per capire che cosa cambi tra il grand'angolo, vedete, questa è una ripresa grand'angolo, questa è la ripresa con la fotocamera normale e questo invece con il dettaglio del telefoto, quindi dello zoom avanzato. Però ecco, dal punto di vista fotografico, questo è veramente un prodotto superlativo. E dal punto di vista dell'audio, come si comporta? Beh, ho preparato per voi già Radio Number One, pronta all'ascolto per sentire... Sentire, vedete, i due altoparlanti da cui è messo il suono, che è bello alto, non ha bassi definitissimi, però devo dire che per ascoltare musica magari così proprio pronti via in velocità, è un ottimo volume, altissimo il volume anche in conversazione e tra l'altro qualità del volume in conversazione molto alta. Io sottolineo un dettaglio rispetto a questo telefono che ha NFC, Bluetooth, ovviamente tutto quello che vi potreste aspettare da un telefono top di gamma, questo telefono introduce anche lo standard Wi-Fi AX, quindi il nuovo standard Wi-Fi che ha la caratteristica di avere, diciamo, la capacità di allocare la banda a seconda della potenza del client collegato. Quindi questo telefono è quello che andrà, diciamo, nella corsia più veloce di comunicazione. Il Wi-Fi AX è veramente una dotazione importante, adesso ci vogliono solo i router a cui collegarsi, però questo è un dettaglio sicuramente da sottolineare. Ricezione buona, abbiamo detto Wi-Fi ottimo, NFC, quindi Samsung Pay e anche Google Pay disponibili, che cos'altro vi posso ricordare? Beh, insomma, la batteria, anche questo è un dettaglio importante, 4100 mAh per il nuovo Galaxy S10 Plus, ho provato in questi giorni, siamo ancora nella fase delle prime cariche, quindi stabilizzazione della batteria sicuramente necessaria, ma comunque buon risultato di autonomia nel corso di una giornata, anche stressandolo veramente a lungo. Certo, 1029 euro sono tanti soldi, se lo comprate subito avrete in regalo le Galaxy Buds, quindi gli auricolari, sicuramente 1029 euro è un prezzo importante, sapete che si parte dalla dotazione di 8 giga con 512 giga di memoria, si arriva addirittura a un tera di memoria con 12 giga di RAM, ma lì il prezzo diventa veramente stellare. Mi è piaciuto in questi giorni, veloce, stabile, la fotocamera è superlativa, adesso la scelta sta a voi, perché la domanda è, a voi piace?